Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Eugenio Bernardini. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, benvenute e benvenuti a questo culto evangelico trasmesso da Radio Beckwith Evangelica RBE. Oggi è la quarta domenica di Avvento, domani sarà Natale e siamo accolti con un testo molto famoso tratto dal Vangelo di Luca al primo capitolo, quello che viene chiamato il Magnificat di Maria, la madre di Gesù. L'anima mia magnifica il Signore e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore, poiché Egli ha guardato alla bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata perché grandi cose mi ha fatto il Potente. Santo è il suo nome, la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri dei loro cuori, ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia di cui aveva parlato i nostri padri verso Abramo e verso la sua discendenza per sempre. Vi propongo di raccoglierci in preghiera. Grazie Dio nostro perché in Gesù Cristo accadono grandi cose. La vita viene affermata. L'ingiustizia è combattuta. La sofferenza è come trasfigurata. La morte perde la sua potenza distruttiva. Noi confidiamo in te. Ci rallegriamo nella tua presenza. Aspettiamo che il tuo regno si compia. Tutta la terra ti benedica. Tutto il creato canti la tua gloria. Lode a te, o Dio nostro. Amen. Sottosprendido stellato, begli anche di quei castori, che l'egregia radunato e fanguardia intorno a loro. Ma con luce sprende intorno e dal dolore che mai seguì. Come mai le abbaglia il giorno perché tremano così. Ma con luce sprende intorno a loro. Anciullino è tra noi, Emanuele. Egli è nato, poverino. Lui che ha fatto terra e c'è. Ascoltate il canto in coro di quegli angeli lassù. Che con c'è. Emanuele. Emanuele. Leggiamo dall'Evangelo secondo Luca al capitolo 1 i versetti da 28 a 38. L'angelo entrato da Maria disse. Ti saluto, o favorita dalla grazia. Il Signore è con te. Emanuele. Ella fu turbata a questa parola e si domandava che cosa mai volesse dire questo saluto. L'angelo le disse. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio e gli porrai nome Gesù. questi sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine. Maria disse all'angelo, come arriverà questo dal momento che non conosco uomo? L'angelo le rispose. Lo Spirito Santo verrà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò il Santo che nascerà sarà chiamato figlio di Dio. Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Perché nessuna parola di Dio rimane inefficace. Maria disse, ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. E l'angelo la lasciò. Oggi è la quarta e ultima Domenica di Avvento. Domani sarà Natale. Sarà Natale per tutti, almeno nelle nostre società occidentali. Ma non per tutti sarà un Natale cristiano. Perché la festa, bisogna dirlo, ha avuto un successo talmente grande da avere travalicato i confini della fede cristiana, delle comunità e pervaso tutta la società. Naturalmente perdendo i suoi caratteri essenziali. Perché qual è la vera essenza del Natale? La troviamo scritta nelle parole del brano che abbiamo ascoltato oggi. e particolarmente in una parola che abbiamo ascoltato. Questa parola è grazia, pura grazia, che si può esprimere anche con la parola dono, puro dono, senza pensare né a meriti né a contraccambi. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Il Vangelo di Luca in realtà non ci parla solo di Maria, ma anche di un'altra donna, Elisabetta. Elisabetta e Maria ricevono entrambe un dono impegnativo, un figlio. Un figlio che sarà speciale. Non sono tutti speciali i figli, questo lo sappiamo. Ma questi due, Giovanni, che sarà il Battista, e Gesù in particolare, per il Vangelo di Luca, hanno un carattere speciale davvero. La prima donna, Elisabetta, è anziana. La seconda, Maria, è giovane, anzi, giovanissima. La prima ha quasi esaurito il tempo della sua vita. La seconda, invece, ha tutta la vita davanti a sé. La prima non ha avuto figli, perché sterile, ci dice il testo. La seconda, invece, è fidanzata e, come tutte le fidanzate, si aspetta un domani di avere figli. Non ora, però, ma quando sarà il tempo giusto. A entrambe accade l'inaspettato. Lo spiega l'angelo a Maria. Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande, sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Ecco, Elisabetta, tuo parente, ha concepito anche lei un figlio nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Nella tradizione cattolica questo racconto si è poi sviluppato in una dottrina molto ampia su Maria. Ma questo è venuto dopo, molto, molto dopo, e ha riguardato solo una parte del cristianesimo. Qui, nel Vangelo di Luca, il racconto di queste nascite miracolose di Giovanni e di Gesù, in particolare quella di Gesù, vogliono mettere al centro non Maria, che pure acconsente con fede al piano di Dio. Ecco, io sono la serva del Signore, mi sia fatto secondo la tua parola. Questo racconto della nascita miracolosa di Gesù, ma anche quella miracolosa di Giovanni il Battista, non vuole mettere al centro Maria, ma vuole mettere al centro Gesù. Secondo il Vangelo di Luca, infatti, all'inizio e alla fine dell'esistenza terrena di Gesù ci sono due miracoli, il concepimento miracoloso e la risurrezione. Questi due miracoli, per il Vangelo di Luca, attestano che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, in senso pieno, vero Dio e vero essere umano, diranno più avanti le prime confessioni di fede cristiane. E questo è un miracolo, certo, ma non perché la fede cristiana abbia bisogno del miracolo, si fondi sul miracolo. Anzi, la vera fede sfugge alla ricerca spasmodica di quello che possiamo chiamare miracolismo, che è invece una tentazione, è la tentazione del diavolo. Luca lo racconta nel suo Vangelo, al capitolo 4, poco dopo il testo di questa mattina, nella tentazione che Gesù subisce nel deserto, appunto, da parte del diavolo, che gli propone di fare dei miracoli grandissimi che possano fargli avere successo tra la gente nella folla. E Gesù rifiuta questo tipo di proposta. La fede, certo, non ha bisogno e non si fonda sul miracolo, ma la fede crede che il miracolo sia possibile, cioè che Dio possa e voglia operare oltre ogni nostra possibilità. E questo è ciò che conta nella narrazione del Vangelo di Luca. Dio si fa presente in modo inaspettato, sorprendente. Questo è ciò che colpisce nel periodo dell'Avvento. Dio, quando pensi che il tempo sia ormai scaduto, quando ormai è troppo tardi, pensate all'ormai anziana Elisabetta che non pensa più che sia possibile per lei una gravidanza. Dio arriva anche quando pensi che sia troppo presto, come per Maria che aveva dei piani un pochino più tranquilli per la sua vita come fidanzata, insomma per la sua vita in comune con Giuseppe. in fondo per l'essere umano il tempo in cui giunge Dio non è mai quello giusto, quello che ti aspetti, quello per cui preghi. Anzi, quando giunge rimproveri Dio perché ha sbagliato, ha tardato troppo o è arrivato prima che tu sia pronto. E così capita di rifiutarlo. Al contrario di quello che fanno queste due donne, Elisabetta e Maria, che colgono l'attimo di Dio perché credono, come dice l'angelo, che nessuna parola di Dio rimarrà inefficace. Il Natale cristiano vuole trasmettere proprio questa fiducia che il Signore viene nella nostra vita anche quando non te l'aspetti o forse soprattutto quando non te l'aspetti e rende possibile l'impossibile. Allora è Natale. Amen. Grazie. 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 work. O Gesù, portanto a noi come un giorno di luminà, per la cilubi e il cuore che la sola è dignà. Si è spennuto in quaggiù, la paura già sa, una luce non è questa pace a qua, ma tu sei la mia, la verità, la vita e il santità. La nostra vita di merda, con benagia al vento e l'or, che l'arco e i piedi la voglia, perché il cuore che la sola è dignà. Si è spennuto in quaggiù, la paura già sa, una luce non è questa pace a qua, ma tu sei la mia, la verità, la vita e il santità. Ci vogliamo raccogliere in preghiera. Signore, in questa ultima domenica di evento, noi ti preghiamo sapendo che sei presente in mezzo a noi. Tu hai inviato a noi il tuo figlio, ma noi ancora attendiamo la sua venuta, che sarà un ritorno. Egli è il vivente nella nostra vita, ma noi ci prepariamo la sua nascita, che sarà la rinascita di tutto il mondo. Il tuo Santo Spirito ci guida e ci consola già oggi, ma noi non smettiamo di invocarlo con forza ogni giorno. Tu sei il Signore del cielo e della terra, ma ancora noi attendiamo la venuta completa del tuo regno. Dacci questa mattina di accoglierti e di attenderti, di cercarti e di comprenderti, di pregarti e di ascoltarti. Te lo chiediamo nel nome e per amore di Gesù Cristo, che ci ha insegnato a pregare anche con queste parole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo o anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Riceviamo ora la benedizione del Signore. Il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede, affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Eugenio Bernardini.